Ciao, Simona Cocchi per voi in fronte di Rinascente, siamo in Piazza Duomo, questo è il primo giorno della settimana di Men's Fashion Week in Milano. Siamo arrivati in uno dei più importanti store italiani, queste sono le finestre. Rinascente avevano dedicato una finestra a ogni designer durante queste show. Vedete queste finestre? Queste sono le finestre, le persone sono arrivati da tutto il mondo, il posto è davvero bucchio, è circa 11.30 in la mattina. Questo è quello che potete ascoltare da me, questo è Marcello Bourlon windows e questa è una nuova windows realizzata da GTDF, una nuova brand. We're gonna step inside. This is the ground floor and you can see immediately the stunning corners that dominate the ground floor. Quindi potete trovare qui tutte le migliori brand di make-up in tutto il mondo along with parfums and jewellery. Quindi siamo pronti di avere voi qui. In Bulgaria? Oh, magari, perché non? Exclusivamente in Milan. Oh, grazie! Questo è Plendida da Bulgaria, grazie! E, come vedete, l'hospitalità è uno dei servizi più importanti che dà ai clienti. Questo è Louis Vuitton Wall. E, come vi ho mostrato prima, ero un guest speciale a Mac. Giorgio Armani Corner. La Mer. La Mer. E, we are in the jewellery corner of Rilascente. We are from Swarovski. Ok, see you in a while. Bye-bye! Ciao! 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 Ciao!